Merda, hai sentito? Stanno arrivando, più in fretta! Ok, entriamo veloci. Prendiamo la batteria e ci leviamo dalle palle. Oh merda! Si stanno ammassando in questo punto! Sono bloccate! Dobbiamo entrare per prendere la batteria! Forza, Bill! Ci sono! C'è un barco, svelti! Joel, c'è un barco! Joel! Merda! Vai, andiamo! Merda! Non reggerà molto! Bill, fai in fretta! Aiutami! Dimmi che hai finito! È vuoto! Cosa? È vuoto, cazzo! Ragazzi! Dove andiamo? Bill, dove? Ovunque, ma non qui! Muoviamo il corpo! Forza! Hanno fatto attenzione! Potremmo uscire dal retro! Voi due, seguitemi. Togliamoci da qui. Runner! Ma, come via! Ma! Sì, sì. Una mano vi farà da comodo! It's how you get there! Per il corridoio potremmo passare da quelle aule. Joel, quella è la parte sbagliata! Di qua! C'è un passaggio. Dobbiamo oltrepassare quei tizioni. C'è un passaggio! Guardami le spalle! Oh, che paura! Forse possiamo passare dal corridoio. Oh, che paura! 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 Aiutami ad aprirla! Pronto? Ancora una! Forza! Marta! Ne arrivano altri! Baricchiamo le porte! Non li tratterrà a lungo! Mi piace questo suono! Mi piace questo suono! No! Che cazzo è quello? È un dannato blotter! Un cosa? Ellie, riparati! Ci penso io! A sinistra! A sinistra! A sinistra! Ellie, stai lontano! Ellie, stai lontano! похi! Ah! Ah! Uff! Ah! Ah! Stammi vicino! Dobbiamo arrivare lassù RUN! Da queste porte! Aiuto! RUN! Pagni venite da solo! RUN! RUN! Ecco. Cavolo. Cos'è successo a quel gigante? È infetto da molto tempo. Quelli così li chiamiamo bloater. Bloater? Ok, capito. Odio interrompere le tue lezioncine di biologia, ma possiamo uscire di qui? Per favore. Saliamo su quelle gradinate. Dammi una spinta, Joel. Andiamo, ragazzi. Ok. Forza. Bene, dai, dai. Su. Joel, dietro! Figlio di puttano. Ce l'ho, ce l'ho! Ne manca solo uno, finiscilo. Forza! Ne manca solo uno, finiscilo. Forza! Oh, come odio quei cosi! Li hai fregati. Ora sali. Perfettare il mio frihio. Tirami su. Tirami su! Ok. Oh, che va. Oh, che va. Oh, che va. Ibarba, ragazzi. Oh, che va? Di qua! Siamo a bersagli facili qui. Di qua c'è un'altra scala! Non fermatevi! Vi seguo! Forza, Gioi! Entrate in casa, subito! Beh, è andata benone. Ok, vado e controllo questa parte di casa. Bill? Hanno avuto la stessa idea e hanno rubato la mia roba. Allora, quale diavolo è il piano B? Dovresti essere grato di essere qui a respirare. Quello era il piano A, B, C, fino alla cazzo di Z. Inoltre, dia tesca e può prendere questo lavoro. Non mettere in mezzo tesca! E può ficcarselo dritto! Questo non ha niente a che... Oh, Cristo. Conoscevi questo tipo? Frank. E chi cazzo è Frank? Era il mio compagno. L'unico coglione che indosserebbe una camicia come quella. Ha dei morsi. Qui. Ok. Penso non volesse trasformarsi e abbia... Già, penso di no. Beh, si fotta. Guardate che ho trovato. E c'è benzina. Nella mia batteria. Quello stronzo. Vieni fuori. Vieni fuori. Ok, Dio. La batteria è scarica, ma... Le celle sono ancora attive. Quindi? Quindi, la spingiamo, la avviamo e l'alternatore ricaricherà la batteria. E funzionerà? Ascolta, volevi un piano B. Questo è il migliore al momento. Che ne pensi? Penso che tu guidi e noi spingiamo. Gesù! Altra roba mia! E allora? Che fai? Rubire le mie cose e scappi? È così, Frank. Dovresti cercare in casa. Penso ci siano altre scoppe. Buona idea. Dimmi quando vuoi finire questa storia. Ti farò un urlo. Ciao. Buona idea. Grazie. Pronto. Pensi di farcela? Sì, non c'è problema. Stai andando alla grande. È giusto dirtelo. Non ti deluderò, tranquillo. Ok. Bill, ho trovato questa qui e ho pensato che dovresti averla. Ci si sente così. Fanculo anche a te, Frank. Stupido idiota. Pronti ad andare? Pronti ad andare? Va bene, Bill. Ok. Mettilo in prima. Già fatto. Tieni il piede sulla frizione e quando si mette in movimento... So come si lascia la frizione. Come diavolo? Non mi interessa! Non fare cazzate! Ok, Ellie, stai pronta? Ora! Schiaccia ora! Schiaccia! Perfetto. Ehi! Bel lavoro, ragazzina! Dall'altra parte, a sinistra! Oh, merda. Merda! Siamo a posto! Torniamo al camion! Dobbiamo andare più veloci! Dobbiamo arrivare alla collina. Dobbiamo solo superare la cima. Dietro quella casa! Ma la vostra destra! No. 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 Dai, indietro! Dai, abbiamo poco tempo. Torniamo a spingere. Davvero, trovinate la giornata. Joel, lo sai dentro? Ok, danno a provare. E' una tregua. Aggiungiamo la collina. Ok, Ellie, stai pronta? Ok, Ellie, metti in moto! Sentito che roba, Bill? Beh, significa che l'hanno sentito anche gli infetti. Saliamo sul camion. Joel, lasciali per, venne usciamo! Vai, vai! Accelera! Ok, qui va bene. Ferma! Non farla spegnere, ok? Quella ragazzina ci ha quasi ammazzati. Dai, ammettilo. Ha saputo cavarsela prima. Voi, non ce la farete. Tieni. Che cos'è? Ti stupirai di quante auto hanno ancora benzina. Grazie. Ehi, Bill, riguardo al tuo amico, è difficile. E io... Beh... Siamo pari? Siamo pari. E allora vattene dalla mia città. E allora vattene dalla mia città.